da oggi c'è una grande novità vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di qui studio a voi stadio abbigliamento uomo donna e bambino arredo casa e accessori esclusivi tutti con i colori della tua squadra del cuore per te o per un regalo originale non perderteli ciao a tutti amici di youtube ben ritrovati qui sul canale di qsvs con tanti aggiornamenti tante novità ovviamente iscrivetevi al canale ovviamente seguite tutta la produzione nella nostra redazione con il best of delle trasmissioni con i punti dei vari editorialisti opinionisti e volti celebri della trasmissione ma non solo quindi un pallinsesto molto ricco quest'estate sia su te lombardia antena 3 top calcio 24 quindi ovviamente restate sintonizzati sintonizzati come devono essere i direttori sportivi gli operatori sul mercato perché si entra nel vivo perché ci sono tante novità perché c'è un bel giro di attaccanti all'orizzonte con le big straniere che sono scatenate in particolar modo c'è il caso un bappé che non vuole rinnovare col pari san germain ha già un accordo da circa 60 milioni all'anno per cinque anni con opzione per un sesto anno con real madrid che però lo vuole prendere a zero nell'estate 2024 anche lui vuole andare a zero perché ovviamente guadagnerebbe di più hanno fatto i conti senza l'oste ovvero il real madrid il real madrid non lo regala o meglio il real madrid è pronto a prenderlo ma il piagino lo regala nel senso che il piagino dice vuoi andare via va bene poi via subito però e vogliamo 200 milioni 200 milioni una follia per un giocatore in scadenza per dieci mesi cifra che naturalmente il pari san germain chiede ma real madrid non vuole spendere cosa accade in tutto ciò accade che probabilmente si arriverà ad agosto con real madrid che farà un'offerta da 100 115 vedremo se il piagino accetterà spettatore interessata da juve perché dujan blauvic comunque è un obiettivo dei parigini piace anche al tottenham che sta vendendo henry kane al bayern c'è l'accordo tra il bayern e kane per un contratto sino al 2027 non c'è d'accordo tra il bayern e tottenham al momento il tottenham vuole 110 milioni il bayern ne ha offerti prima 70 rifiutati poi ha rilanciato ad 80 ancora no la sensazione 90 100 si può chiudere saranno giorni caldi a quel punto il tottenham può provarci per vlaovic vlaovic però si è promesso al pari o meglio vorrebbe andare a pari san germain il suo agente d'arcoristi c'ha una bozza d'intesa per un contratto di 5 anni a 10 milioni a stagione quindi lavoro in corso va seguita questa pista la segue anche romero lukaku che può rientrare in questo valzio di attaccanti per la juve dopo che la trattativa con l'inter è saltata in malo modo dopo che lui si era promesso all'inter dopo che il suo agente l'avvocato ledur lo scorso 6 luglio in sede all'inter aveva trovato l'accordo quadriannale con i nerazzurri nel frattempo poi gli scenari sono cambiati e il nome di lupaco adesso appartiene già al passato e non più al presente e tantomeno apporterà al futuro del club nerazzurro inter che valuta diversi nomi per l'attacco valogun grande pallino di piero ausilio operazione abbastanza costosa piace anche al milan però servono almeno 40 milioni piace anche l'atletico madrid atletico madrid dal quale è l'uscita morata morata intriga tanto l'inter c'è stato un incontro positivo piace tantissimo alla roma che è in grande pressing ci fa un pensiero eventualmente la juve se ci fosse l'uscita di federico chiedo insomma c'è un'asta un'asta selvaggia per alvaro morata ma servono 21 milioni quelli della causa recissoria che chiede attualmente senza fare sconti la formazione madridena i colcioneros vogliono 21 milioni la sensazione che 21 milioni in italia non gli spenda nessuno per morata ma che si possa in qualche modo intavolare un discorso magari al ribasso 15 16 18 milioni quello che vorrebbero fare i club interessati ricordiamo che morata aveva un'offerta clamorosa 21 milioni veniva pagata la clausola dall'al etifac formazione araba allenata da steven gerard e per morata c'era un triennale pensate bene un po da mille una notte da 40 milioni a stagione perché non si è fatta l'operazione molto semplice per motivi familiari perché comandano le mogli nella maggior parte delle case degli italiani anche in casa morata la moglie Alice Campello non voleva andare in arabia saudita e alla fine ha fatto un po' di pressione ha convinto il marito ad esistere a rifiutare e spingere per il ritorno in italia lui è molto tentato ovviamente alla juve ha lasciato un grande ricordo ha giocato 4 anni tornerebbe volentieri ma oggi le formazioni più calde sono roma in pressing costante con murinio che ha già telefonato più volte al giocatore c'è stata una lunga chiacchierata settimana scorsa per ridurre il progetto giaddo rosso per convincere a sposare la causa romanista con un quadrennale da 4 milioni e mezzo sul piatto ma c'è anche forte 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 molto molto interessata l'inter che è pronta a mettere sul piatto magari tre anni di contratto con opzione per il quarto 5 milioni a stagione più buono insomma è un bel duello di mercato quello tra inter e roma e morata dovrà poi prendere una decisione nei prossimi giorni naturalmente è un mercato che si infiamma per gli attaccanti emergenti perché Oilund è il prossimo diamante che forse lascerà la Serie A perché forse? perché servono almeno 60 milioni lo United in offerti 40, ha rifiutati, ha rilanciato intorno ai 50, ha lavoro in corso potrebbe inserire il giovane Ahmad Diallo prodotto dal settore giovanile atalantino classe 2003 che aveva fatto molto bene gli anni scorsi, inizialmente sembra destinato a diventare una sorta di baby prodigio poi si è un po' perso però è ancora giovane, l'Atalanta lo riprenderebbe, sarebbe utile per le liste riflessioni in corso con Oilund che si è promesso al Manchester United è vero che Pier Ausilio, che siamo giunti, li impazziscono per il danesino ma è vero anche che insomma la bottega dell'Atalanta in questo momento è troppo cara per il calcio italiano e la sensazione appunto che Oilund possa andare allo United anche perché qui vi racconto un retroscena Oilund ha già l'accordo per un quinquennale da 5 milionetti a stagione con il Red Devils e soprattutto lui si è promesso allo United nel momento in cui a fine maggio il papà ha scelto di affidarsi per l'estate perché il mandato scade ai primi di settembre all'agenzia SEG per chi non lo sapesse la SEG è un'agenzia molto importante a livello internazionale olandese che cura gli interessi di Eric Tenag chi è Tenag? È l'allenatore del Manchester United quindi ci sono dei basi comunicanti, un'operazione tra virgolette da questo punto di vista già delineata, già pensata, già impostata ma da definire perché bisogna accontentare l'Atalanta e dargli quello che il club nerazzurro chiede chi cerca un attaccante è anche il Milan calano le quotazioni di Taremi perché è extracomunitario perché il Porto chiede 20-25 milioni per il Milan sono troppe, il Milan oltre i 15 più qualche bonus non voleva andare e soprattutto perché Pioli è stato chiaro ha ribadito che la sua priorità è il nigeriano Samuel Chukueze quindi il Milan deve usare lo slot da extracomunitario per Chukueze e non per Taremi l'idea dell'allenatore che vuole giocare l'anno prossimo con un 4-3-3 o 4-1-4-1 con due esterni velocissimi che saltano l'uomo che creano superiorità numerica che fanno la differenza Leao c'è già a sinistra a destra il prescelto è Chukueze 25 milioni più 3 di bonus che è offerta nel Milan a Villareal che ne chiede 35 ma la sensazione è che a 30 più una percentuale sulla futura rivendita possa cedere contatti costanti, febbrighi tra le parti e ovviamente se Milan chiude Chukueze compete la batteria di esterni offensivi e trequartisti ma dovrà andare su un attaccante di passaporto comunitario la sensazione è che il nome non sia ancora uscito che il Milan possa fare una sorpresa un nome top secret nel mese di agosto alla fine possa esserci un blitz da parte del duo Moncada-Furlani su un nome, su un target non ancora mediaticamente esploso per quel che riguarda l'attacco mentre al centrocampo continuano i contatti con il Valencia per Musa un'altra prima scelta e Milan sinora gli obiettivi che aveva prefissato e individuato li ha tutti centrati magari un po' fatica magari un po' a rilento le trattative sono state a volte laboriose lunghe faticose ma poi voleva Reinders l'ha preso voleva Pulisic e Lofusic dal Chelsea li ha chiusi e adesso insomma avanza su altre due priorità di cui si era già parlato un mese fa che erano stati indicati da Pioli come rinforzi graditi ovvero Musa al centrocampo e Ciucueze come esterno offensivo la Roma se non arriva a Morata tiene sempre in caldo Gianluca Scamacca che vuole tornare in Italia che sta mandando più di un messaggio forte dei giallorossi presto con diritto di riscatto che deve diventare obbligo a tot presenze e soprattutto in caso di qualificazione Champions dei giallorossi e poi il Napoli Napoli che spera di non fare nulla in attacco perché significherebbe aver mantenuto in rosa Victor Rosimène al quale è stato offerto un rinnovo fino al 2027 da 7 milioni e mezzo a stagione bonus compresi si tratta sulla cifra della clausola recissoria lavoro in corso ma il Napoli è ottimista e soprattutto se Paris Saint Germain andrà su altri attaccanti Vlarovic Colomoni e non dovesse andare su Simen non ci sarebbero spauracchi per il club azzurro altrimenti se arrivano 150 milioni è dura resistere ma il Napoli spera che questa offerta da Parigi possa non arrivare ciao a tutti